Abbiamo intervistato nei nostri studi il consigliere di minoranza del comune di Agropoli, Agostino Abate, che ha tracciato un bilancio sulla protesta pro-ospedale contro il governatore De Luca. Il consigliere Abate, unico personaggio politico dell'opposizione agropolese presente in prima linea alla manifestazione, ha parlato del blocco della contestazione pacifica attuato dalle forze dell'ordine ed anche della mancata affluenza alla protesta da parte dei cittadini. La manifestazione era stata organizzata da Roberto Oricchio giorni e giorni prima. Io avevo aderito completamente e entrambi abbiamo presentato la richiesta alla questura. Chiaramente nessuno di noi, sono convinto di parlare anche a nome di Roberto Oricchio, nessuno di noi si aspettava una grande folla perché avevamo avuto già delle esperienze negli anni passati per quanto riguarda la manifestazione pro-ospedale di Agropoli che è l'assenza della gente. Però puntuali, alle 9.30 della mattina ci siamo ritrovati davanti al bar, del bus bar, e puntualmente abbiamo riscontrato la presenza di una certa folla, soprattutto di giovani, soprattutto di ragazzi. Non era una grande folla, però giustamente la manifestazione doveva partire. A un certo punto però mi sono reso conto che la manifestazione sarebbe stata bloccata di lì, dove ci trovavamo a pochissimi metri, cioè a 10 metri di distanza, i carabinieri avevano dato l'alto, cioè oltre quel termine non si passava, mentre l'inaugurazione veniva svolta molto, ma molto più avanti. A questo punto io non ho accettato una condizione del genere, anche perché il corteo era del tutto pacifico e si vedeva sotto tutti i punti di vista e quindi ho contestato questo blocco in quella posizione, ma non è stato possibile ottenere altro risultato. Allora abbiamo deciso di sciogliere il corteo, visto che non era poi tanto numeroso, di sciogliere il corteo e di andare oltre così come liberi cittadini. È stata una decisione forse non tanto gradita nemmeno dalle forze dell'ordine, quello di sciogliere il corteo e andare avanti, perché sapevano benissimo che andando avanti come liberi cittadini non ci poteva fermare nessuno. Ma siamo andati comunque avanti, siamo arrivati davanti alla caserma, dove c'era anche la tua televisione, cioè c'eri tu proprio, Cirento Channel, abbiamo chiesto di entrare, ma non è stato possibile perché era già il pienone. Quindi abbiamo riscontrato ancora una volta l'organizzazione dell'amministrazione comunale, cioè il pienone c'era già, quindi non potevamo entrare. Evidentemente era tutto preparato per non farci entrare, perché avevano timore di qualche comportamento scorretto. Mi sono chiarito pure con le forze dell'ordine, dicendo che ero mortificato che a questa età io dovessi subire un controllo del genere, ma non io personalmente, ma anche lo stesso corteo. Però giustamente non c'era posto per entrare, siamo rimasti fuori. Dopodiché ci siamo resi conto che De Luca non veniva più, perché era stato riferito che De Luca non veniva più, quindi lo scopo della nostra manifestazione, quella di contestare il governatore della regione Campania sulla mancata riapertura dell'ospedale di Agropoli, non aveva più senso quindi rimanere in quel posto, ce ne siamo ritornati e abbiamo fatto praticamente un ringraziamento ufficiale a tutti i ragazzi che erano ancora presenti, che erano rimasti sul posto. Questo è quanto si è verificato relativamente alla manifestazione. Le mie osservazioni in merito all'assenza dei cittadini? Beh, le mie osservazioni conterebbero poco. Posso soltanto dire che chiaramente non sono uno sproveduto, e penso che anche Roberto Auricchio non è una sproveduta. Sapevamo benissimo a cosa andavamo incontro, a un eventuale flop della stessa manifestazione, ma abbiamo deciso praticamente di portarla avanti, perché? Per mantenere sempre viva, accesa nella mente di tutti i cittadini di Agropoli, che a noi manca l'ospedale, che a noi manca il pronto soccorso, nonostante il territorio ne abbia tutte le capacità e tutte le caratteristiche. E anche per dare un altro segnale, ci sta un problema. Noi ad Agropoli viviamo di opposizione contro la maggioranza, così come in qualsiasi altro contesto politico, comunale, territoriale, ma viviamo anche con l'opposizione all'opposizione. Cioè ci sta gente che si cura di più di guardare e fare opposizione all'opposizione che alla stessa maggioranza. Allora per dare anche a Costoro la dimostrazione che noi siamo chiari, che abbiamo le idee chiare, che non abbiamo nulla da poter condividere con l'amministrazione comunale, se non quando la stessa piglierà in considerazione la problematica reale dell'ospedale di Agropoli. Quando la maggioranza piglierà in considerazione questa problematica, allora, soltanto allora, possiamo praticamente aprirci a un confronto per lo sviluppo della città. Invece no, addirittura un manifesto che era chiaro, inequivocabile, per cui sono dovuto ricorrere all'analisi logico-deduttiva dello stesso manifesto per far comprendere che noi parlavamo di trovare intelligenza e collaborazione nell'agenda di Agropoli, a cui apriviamo il nostro cuore e le nostre coscienze. No, siamo stati criticati perché volevamo aprire il nostro cuore e la nostra coscienza alla maggioranza. Evidentemente l'italiano è interpretabile in diversi modi.